buongiorno a tutti voi oggi andiamo a fare una ricetta molto semplice ma dalla bontà incredibile si tratta degli spaghetti allo scoglio prima di andare a fare la ricetta volevo chiedervi se potevate iscrivervi al mio canale youtube e di questo vi ringrazio anticipatamente buongiorno a tutti i miei Grazie a tutti. e 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 resta che augurarvi buon appetito e di chiedervi ancora di iscrivervi al mio canale youtube e di questo vi ringrazio anticipatamente e